Now we need some space cause I feel for you and I wanna change Growing up alone, it seems so sure, I can't explain La protagonista di Giù la maschera di questa settimana è la prima testimone di giustizia ad essere entrata in Parlamento Dopo aver deciso di denunciare il mondo mafioso e iniziare a collaborare con le forze dell'ordine Dopo l'omicidio del marito, freddato dai killer davanti ai suoi occhi nel 1991 La nostra protagonista decise di dire basta a quel mondo in cui era cresciuta Iniziando a collaborare con la polizia e la magistratura, tra cui il giudice Paolo Borsellino Insieme alla cognata Rita, che però si uccise a 17 anni, una settimana dopo la strage di Via D'Amelio Da allora la sua vita è cambiata per sempre, vivendo per ben 27 anni con un'altra identità Fino alle elezioni politiche del 2018, quando è uscita lo scoperto ed è stata eletta alla Camera dei Deputati Con il Movimento 5 Stelle La protagonista di Giula Maschera di questa settimana è l'onorevole Piera Aiello Grazie mille onorevole di aver accettato il nostro invito per Giula Maschera Tra l'altro la sua testimonianza per noi è particolarmente preziosa Perché oltre a parlare di politica, la politica spesso di etichetta, si parla di vita reale Lei è una donna che ha dimostrato su campo di avere coraggio, sposata giovanissima con un uomo, possiamo dire, mafioso Ha vissuto sulla sua pelle la paura della mafia perché ha visto anche suo marito assassinato E lì ha deciso che era il momento di denunciare Ma partiamo dall'origine della sua storia Innanzitutto andiamo un po' al ritroso Com'è che ha deciso di entrare in politica? Quindi partiamo dalla fine per poi andare su Allora, entrare in politica è stata una casualità Per anni mi avevano accarezzato molti partiti A me mi hanno sempre accarezzato sia da destra che da sinistra Però non mi sentivo pronta Calcoli che io stavo vivendo una vita da 28 anni senza volto Nessuno sapeva chi ero il mio volto, non l'aveva mai fotografato nessuno Quando arriva la chiamata da un euro parlamentare del Movimento 5 Stelle mi dice che l'idea era di candidarmi Ci ho pensato, ne ho parlato con la mia famiglia perché questo voleva dire disvelarmi Uscire da quella bozzolo che mi ero costruita per 28 anni E diventare un personaggio pubblico con i rischi che comportano Lei ha visto quando sono arrivata, avevo la scorta C'è 30 anni che ho la scorta E non è una cosa bellissima perché non hai più la libertà di fare nulla Però ne ho parlato in famiglia e abbiamo deciso di fare questo passo Perché? Perché per 30 anni ho parlato di antimafia in tutte le scuole, d'Italia e fuori Italia Con centinaia e centinaia di ragazzi, per non dire milioni di ragazzi Perché 30 anni sono veramente tanti Però parlare anche in Parlamento di antimafia mi sembrava corretto Perché era un argomento tabù E io l'ho notato questa cosa perché in 5 anni che sono stata in Parlamento Si parla di argomenti importantissimi, delle necessità di tutti gli italiani Ma non si parla di antimafia come se fosse un argomento scomodo Fa ancora paura? Secondo me sì perché abbiamo visto che in molti territori ci sono connivenze fra politici e mafiosi Dove ci sono le sacche dei voti Infatti io quando sono andata a fare la prima campagna elettorale Non ho mai chiesto di essere votato Io dicevo se avete fiducia in me, nel mio operato, in quello che ho fatto in tutti questi anni Vorrei portarlo in Parlamento Come sto facendo adesso lo stesso Perché ho iniziato un percorso importantissimo Ho portato avanti proposte di legge, emendamenti, ho portato un sacco di roba Cosa che non è stata quasi presa in considerazione Come se quell'argomento fosse scomodo un po' per tutti E non capisco perché questo argomento dovrebbe essere un argomento inclusivo di tutte le forze politiche Non ha un colore politico l'antimafia Dovrebbe essere una cosa voluta perché un genitore, una madre, un padre Non può volere un mondo sporco per il proprio figlio Deve volere il bene del proprio figlio, il bene della propria società, del proprio paese, del proprio popolo E questa cosa mi ha lasciato basita, disgustata E tutte quelle connivenze interne del Parlamento che si vedono Che io vedevo al di fuori con i mafiosi Mi ha incominciato a respirare Me li sono trovati là per dire ma dove sono Cioè io in Parlamento molto spesso ero e sono ancora a disagio Perché vedo, come si dice, che si mettono d'accordo fra di loro Su cose che non ci dovrebbero essere certi accordi Cioè io se mi dicono che non devo parlare della mafia io giro e me ne vado Se mi dicono di non presentare un emendamento Così come ho fatto quando sono andata via dal Movimento Io sono andata via dal Movimento per questo motivo Perché è stata avvallata una circolare dal Ministro Bonafede Scritta da Basentini, lo potete andare a trovare pure sul sito del Senato Dove Basentini spiega benissimo la situazione Dove dice che lui ha scritto questa circolare Che è stata approvata dal Ministro Bonafede E questa circolare ha mandato agli arresti domiciliari Con la scusa della pandemia 500 boss mafiosi Quella circolare diceva che i boss ultra settantenni Dovevano andare a casa Se lei va a leggere le parole iscritte nel papello di Totò Rina Dice questo Che boss settantenni non devono stare in galera Allora cosa abbiamo fatto? Volevamo il cambiamento Dovevamo aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno E alla fine che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato i boss a casa Io per questo sono uscita al momento Mi sono sentita tradita Perché loro sapevano che ero io Io i boss mafiosi li ho mandati in galera Onorevole si parla di lei come donna pentita In realtà lei non è stata mai mafiosa Buonasera Benvenuta Benvenuta Onorevole Grazie Grazie Siamo veramente felici Siamo veramente lusingati Ci sentiamo per una donna come sei tu Per quello che rappresenti Per quello che rappresenti per le nuove generazioni Grazie della tua venuta e grazie del tuo impegno Nell'unione popolare di De Magistri Assolutamente sì Assolutamente insieme per il popolo Grazie A calore anche qui in Puglia Diciamo che io ho girato tantissime località protette in tutta Italia E una delle mie tante località protette è stata la Puglia E sinceramente la ricordo con molto rimpianto perché me la sentivo come quasi casa mia Perché qui in Puglia avete quasi le stesse abitudini che abbiamo in Sicilia Il calore della famiglia Le tradizioni degli amici Quando ci si vede si abbraccia un caffè E la stessa cosa che succedeva nella mia terra di Sicilia Io l'ho trovato qui in Puglia Me la sento quasi la mia seconda casa Vi devo essere sincera Avendo girato tutta Italia Noi siamo orgogliosi di questo Di averla adottata nella nostra bellissima regione Prima che ci interrompesse il suo Tra l'altro è candidato nella sua lista Sì sì candidato Aspirante parlamentare Io le ho fatto una domanda Che vorrei alla quale le rispondesse Perché poi è il nodo anche importante della sua storia Lei spesso viene identificata In quanto è stata comunque denunciata alla mafia Come una donna pentita Ma in realtà lei non è mai stata mafiosa Anzi nel momento in cui ha percepito Che nel suo fidanzato c'era qualcosa Che non andava Qualche anomalia anche a livello familiare Lei ha cercato di lasciarlo Per poi essere minacciata dal suo suocero Assolutamente Io amo dire che la mia famiglia È una famiglia di pane e cipolla Molto semplice Se ce n'era ce n'era per tutti Se non ce n'era non ce n'era per nessuno Noi non avevamo grilli per la testa Ci bastava il minimo indispensabile Che può avere una famiglia Mio padre faceva il muratore Mia madre la sarta Però quando poi mi fidanzo con Nicola Cerco di lasciarlo Sono stata minacciata da mio suocero Se non avessi sposato il figlio Avrebbero fatto del mare alla mia famiglia Calcoli che in quegli anni A fine 80-90 Anche per uno sguardo Ma riposto ammazzavano una persona Si figura se io avessi detto Non sposo tuo figlio Lui infatti mi disse Tu prendi tutto il tempo che vuoi Anche un anno A me non interessa Ma sempre mia nora deve essere Queste sono state le parole di Don Vito Atre E poi niente Quando subito dopo neanche otto giorni sposata Lui Mio suocero viene ucciso Era in viaggio di nozze Quando avuto In viaggio di nozze Siamo stati chiamati Siamo arrivati La nostra prima sosa È stata all'obitorio di Bartanna Praticamente sono passata Dall'abito da sposa Ai vestiti neri Di del lutto Poi dopo neanche cinque anni È stato ucciso mio marito Proprio davanti ai miei occhi Ho riconosciuto Chi aveva sparato quel giorno Ma in più Io Siccome ho vissuto dieci anni In quel contesto mafioso E sai Io non potevo avere un'amica del cuore Dove gli dicevo So dove tengono le armi So dove tengono la droga Oppure so chi ha ucciso Perché io ascoltavo Io ero una spugna E in quegli anni Io avevo dei diari E scrivevo ogni giorno In quei diari Ma non solo Di cose di morte ammazzate Ma scrivevo tutto quello Che mi succedeva Diari che per dieci anni Io ho ottenuto Perché per lei Quella era la normalità No che era la normalità Io non avevo con chi sfogarmi Mida potevo andare A raccontare la mia famiglia Non intendo Quella era la sua vita però Quella era la mia vita Io ascoltavo Però Allora Adesso ci sono le associazioni antimafia Sai che ti puoi rivolgere A qualcuno Qualche associazione Che ti potrebbe aiutare Ma 31 anni fa Non esisteva un'associazione Non sapevi a chi rivolgerti Per me la massima autorità Era il marasciallo del paese Che molte volte Poteva essere anche un corrotto Allora noi ci fermiamo Un minuto per la pubblicità E torniamo subito Con l'onorevole Aiello Per continuare a ripercorrere Al ritroso Ma anche nel futuro Quello che è il suo percorso personale Storico e politico Tra un minuto Su Antenna Sud Bentornati nuovamente Su Antenna Sud Una giula maschera speciale Oggi con l'onorevole Aiello Ricandidata Per portare la sua testimonianza E proseguire nel suo lavoro Dell'antimafia in Parlamento Ondonevole Ci stava raccontando La sua vicenda personale Ecco lei ha visto Suo marito Ucciso dalla mafia Davanti ai suoi occhi Che momenti di terrore Sono stati quelli? Sono stati attimi Perché È arrivato un commando Di quattro persone Due sono rimasti fuori Due sono entrati dentro Con fucile a canne mozze E pallettoni La classica lupara E lo hanno ucciso Dentro un cucinino Praticamente Io stavo lì L'ho visto E li ho riconosciuti E niente Poi ho deciso Di denunciare il tutto Mi ero stancata Il mio paese Era il paese Degli orfani E delle vedove E poi Il passo scatenante Dove ho deciso Di denunciare il tutto È stato quando ho visto Mia suocera Arrivare col fazzoletto nero Da mettermi in testa Quel fazzoletto nero Era per me Un segno di sottomissione Era un segno di dire Io sono connivente Con quello che sta succedendo In mio paese Invece io non ero connivente Io avevo fatto addirittura Il concorso in polizia di stato L'avevo pure superato Per me Era fondamentale Denunciare Perché non volevo Che mia figlia Crescesse In un ambiente Così sarebbe sempre Stata additata Come la nipote Di Don Vitoate La figlia di Nicolatria Cioè mia figlia Invece se Gli chiedi Chi sei Lei ti dice Vero è mio nonno Ero un mafioso Mio padre era un delinquente Però io sono la nipote Di Ritate Ritate è mia cognata Che insieme a me Ha denunciato Però si è suicidata Si è suicidata Perché? Perché Purtroppo Per lei Lo stato era rappresentato Da Paolo Borsellino Come anche per me Lei non aveva Una famiglia a supporto Come ce l'avevo io E anche se io gli stavo vicino Però sai L'affetto di una mamma Di una famiglia Non lo puoi sostituire In nessun modo E la sua mamma L'aveva rinnegata Ma l'aveva rinnegata Anche la sorella Allora Lei ha visto Che non aveva più Un supporto Morendo Borsellino E ha fatto Il gesto estremo Però prima Aveva scritto Tutti i verbali Aveva denunciato tutti Infatti Quei verbali Comunque sono entrate Nei processi E sono state Condannate Delle persone Onorevole Cosa ricorda Proprio Dell'attentato Di Borsellino Era una persona Che per lei È stato un riferimento A lei Borsellino chiese Di essere chiamato Zio L'ho saputo Come tanti italiani Stavo alla televisione Di domenica Davanti alla tv Si interrompono Le notizie E dicono Che c'era stato Un attentato Subito Non l'hanno detto Che era morto Subito Io ho chiamato Chi di dovuto E mi hanno detto Che purtroppo Già era morto E niente Volevo partecipare Ai funerali Ma non mi è stato Permesso Però dopo Un paio di mesi Sono andata a trovare La mamma Di Paolo Borsellino E siccome Io già l'avevo vista Un'altra volta E la vedevo Assente Seduta Con una sedia Davanti a quella Finestra Dove Che era Splosa E quando sono arrivata Lui ho detto Ciao Gli ho detto Mi riconosci E lei mi fa così Prende la mia testa Se la mette sulle gambe Mi accarezza E mi dice Sì Tu sei Piera Piera di Paolo Che emozione Assolutamente Una grande donna Una persona Mi ha dato tanto Una persona che Come il figlio Mi diceva Studia Perché studiare è importante Io lo dico ai ragazzi Pensa che io Un anno fa Mi sono laureata E non ne avevo Neanche bisogno Perché ormai Il mio lavoro Bene o male Ce l'ho Non come politica Fuori dalla politica Io ho un lavoro E lei mi diceva Studia Me lo diceva Anche Zio Paolo Mi sono laureata E ho dedicato Questa laurea A lui Mi sono laureata In scienze politiche Era una cosa Che volevo Da tanti anni Ma per una questione Esquisitamente economica Non ne avevo potuto fare Onorevole L'ultima domanda Siamo arrivati Al termine Del nostro speciale Giula Maschera Tornare in Parlamento Tornare nella Commissione Giustizia Tante le cose Che lei ha portato Tanti la voi lasciate In sospesi Da cosa vorrebbe ripartire? Allora Io vorrei tornare in Parlamento Non solo per andare In Commissione Giustizia Per portare avanti Le due leggi Che sono rimaste Insabbiate Ma perché voglio Tornare veramente In Commissione Un parlamentare antimafia Dove proseguire Con le audizioni Perché molti Non lo sanno Ma c'è un popolo Sommerso Di cui non si parla mai Sono i testimoni I collaboratori Di giustizia Sono più di 6.000 persone Fra i cui 400 minori Che vengono abbandonati Allo Stato Minori che non hanno Diritto allo studio Diritto di andare in palestra Diritto di andare A fare una vacanza Ebbene Noi dobbiamo Accendere un faro grande Su queste persone Perché se il loro papà È stato un delinquente Un mafioso Un dranghetista E ha deciso Di collaborare Con la giustizia I figli Non devono pagare Le colpe dei padri Perciò noi Dobbiamo aiutare Questi ragazzi A diventare persone Speciali Nel mondo Per dire che Se si vuole Si può uscire Da quello che è Il contesto Mafioso Criminale E noi su questo messaggio Ringraziamo l'onorevole A voi Cari telespettatori Di Antenna Sud Diamo appuntamento A sabato prossimo Sempre con giù la maschera Sempre per raccontarvi La storia Di un personaggio noto A livello regionale Nazionale E locale Grazie mille Buonasera Grazie a lei Grazie a voi Now we need some space Cause I feel for you And I wanna change Growing up alone It seems so short I can't explain Come on Come on Grazie a tutti.